Buongiorno, mister, maestro o semplicemente David Lynch. It's October 31, 2021, it's a Sunday and I would like to wish a very, a very happy Halloween to all the people. It's a Sunday and here in Naples against 67 Fahrenheit and 20 Celsius like yesterday. Questo significa che sempre quella giornata veramente, 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 veramente mite o in questi giorni, in questo periodo, anche se leggerissimamente, appunto come ieri, è fresca e oggi è una giornata, ci sarebbero tantissime cose da dire, penso che se le dico tutte non la finiamo più, però dico sinteticamente solo cosa celebriamo, poi magari aggiungo più informazioni su tutto, vari link dei video ipotetici in descrizione. Oggi sarebbe stato il compleanno di Frank Silva, sicuramente lo saprà meglio di me, 71 anni avrebbe fatto, poi anche il compleanno di Michael G. Anderson, curioso questo, questo nesso, qui appunto dico qualcosa altro in descrizione, Michael G. Anderson, 68 anni, già l'anno scorso di dedicare un tributo, ma approfondisco in descrizione, tra l'altro il giorno prima è stato anche il compleanno di Maradona, cioè era anche il compleanno di Maradona il 30, lo dico a napoletano, tra l'altro. Poi, insomma, dovrei caricare, essendo Halloween, diciamo questa notte penso, tra la nottata e anche domani, primo novembre, fino alla sera, non so quanto ci metto, ma spero di farci neanche col tempo, diciamo vari pezzi, alcuni film, tre film, diciamo, che ho preparato appunto per questi due o tre giorni, dei morti, di Halloween, diciamo, e quindi, sì, poi inserisco sempre i vari link in descrizione, i pezzi che caricherò. E poi, oggi il mio Napoli, spero che continui con questo trend, è ancora imbattuto, nove vittorie in Pariggio, alle 6 ci sarà il derby, cioè quando si affrontano due squadre nella stessa zona, nella stessa regione, derby contro la Salernitana, Salernitana-Napoli. Insomma, quindi verso la decima vittoria, speriamo che i suoi numeri ci diano qualche indicazione. in ogni modo, come si vede solo dalla finestra, oggi non abbiamo questi bellissimi blu skies, golden sunshine, sì sì, è sempre un'atmosfera, è velata praticamente come ieri, una fotocopia potremmo dire, quindi potrebbe anche piovere il pomeriggio, ovviamente le cose possono sempre cambiare un momento all'altro, ma come ieri dicevo, in questo caso la vedo un po' impossibile. ma come sempre lo vedremo, diceva questo, così, dal mitico window, il colorato cortein, honoring, beautiful but gray, today colored cortein. and it's green roller shooter and finally from my mythical keyboard yamaha dgx 640 ipg 625 have a great day, him, all the people that follow, also the haters, you are functional, you are always a part of the important part and everyone too